Grazie a tutti Grazie a tutti Ma perché? Perché ci sta bene Ci sta bene Tra le piccolette Essendo un piatto prete per te Ci vale una provanda più semplice e più facile Quindi la birra è la cosa perfetta Contiene nitride carbonica E' amara Quindi pulisce, sgrassi appalato Da continuità Leva il sabato del sale Perfetto In genere utilizzi la birra in cucina? Sì, io ho un piatto con la birra in caldo Però è un dolce Ho una barretta cioccolato con Un timo pistacchetto pinato E lo avvieni con quale birra? Ehm... Tipologia? No, no Una rossa cos'è? Sì, una rossa doppio mare E una rossa? Sì Sì, sì, sì E un commento invece alla giornata di oggi Come ti sei trovato? Quali feedback hai ricevuto? No, la giornata è positivissima Stavo benissimo, tranquillo Ho fatto tutto Stasera? Si festeggia o si dorme? No, stasera è a patore Finalmente Ieri qua lavoro Oggi lavoro Stasera Poi oggi è giorno di riposo Poi oggi è giorno di riposo